Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSCorewatch Il mio nome è come sempre tutto a noi e te quest'oggi siamo tutti qui riuniti Per guardare un'altra prova e che appare, possibilmente, un altro cheater Quindi, diamoci da fare Ok ragazzi, ci siamo, mando avanti il warm up perché l'inizio non stava facendo niente E siamo Se, se, picche picchierello, picchio picchio pazzerello Siamo su DAS2 e il nostro sospettato è in mid Con un SP ha fatto una kill su un tizio fermo 0-0 in questo momento Un altro FK per i terro Vediamo che combina Ok Ok Ha fatto uno scattino strano sul tizio che è uscito Però poteva averlo fatto con la mano Vediamo un po' L'hai visto scendere? Domanda L'hai visto scendere? E ma adesso sono i terro che cercano di mettersi nel mirino del tizio però Va lì Ok, il tizio arriva Verso short Ha sparato in mid e torna indietro Spara un altro paio di colpi Lui controlla il mid C'è un tizio che sta pushando sotto Lo vede dopo Non gli spara Lo prende tardissimo C'è chi ha sparato a quello sopra Riesce a prendere in headshot quello sotto Bastanza normale il sospettato per ora, eh Bastanza normale I riflessi di un bradipo di Zootropolis O di un impiegato delle poste Ok Non mi sembra niente di strano per adesso, eh Per adesso Molto per adesso Con tutto il per adesso possibile Ok Secondo round è andato L'hanno vinto A posto Lui continua col suo scout Mira il mid Non c'è un cazzo di nessuno Tira nade Lì perché si fa Metti che ti rushano Quella nade lì con il giusto timing fa un sacco di danni Passi però, passi, eh Altri passi Il tizio salta Cioè che riprende Non lo trova Lo trova però in headshot Spara un piede all'altro Senti i passi per short Il tizio short viene ucciso Sa che stanno ingaggiando Fuori Da B Però tanto Ha cercato di fare il giro Ma tanto il tizio Venne stato ucciso prima Droppa lo scout E Upgraderà una WP Suppongo Eccolo lì La WP Eccolo lì Vai mid Mira sopra Non c'è nessuno Ha visto la testina del tizio che usciva E viene ucciso male Ok Perché l'hanno reportato? Cioè sì Magari è uno smurf Magari Vediamo con la deagle Che mi fai con la deagle Buon uomo Si sposta in mid Perché c'è tanto movimento in mid E' stato chiamato dal compagno Suppongo Mira in alto Non vede Vede la nade arrivare Quindi sa che ce n'è uno basso Oddio il one tap Si ferma Incredulo A cercare di capire Che cazzo ha fatto Giustamente Però vedete Non tutti i colpi attraverso le smoke Sono Io mi sto mettendo comodo Non vi preoccupate Se Se mi vedete Che mi abbasso piano piano E poi sparisco dalla webcam È perché mi sono steso Sono molto stacco E devo ancora andare a far la live da titan Quindi Spara un po' Lì In mid Sente il colpo Della vp Spara Di nuovo Nello stesso punto Magari A culo Il tizio Gli spara Da sopra All'xbox E lui muore Perché L'hanno reportato Cioè Ha sparato un colpo A caso E l'ha preso Bene Buon per lui Ancora Deagle Per il sospettato Si mette in B Posiziona la shroud Arrivano le call da A E lui decide di tornare per A Giustamente Piene un altro Piene un altro Sospettato No Niente Oh Oh Quasi ci stava Credo che l'abbia anche leggermente colpito Maple Guarda short Viene sbiancato Si riporta verso short Uno è droppato giù Va verso goose C'è un tizio con la whooping goose Riesce a fargli hs L'altro tizio aveva visto che gli sparava Non riesce a ucciderlo Senta i passi dietro Non riesce Perché l'hanno reportato Cioè si è 9-4 Ok Ha fatto in 6 round 9 kill Ha fatto un paio di belle kill di Deagle Fine della questione Forse è uno smurf Può essere Cosa fai? Guarda un po' in mezzo alla smoke Non prende nessuno Non prende ancora nessuno A posto Si sposta verso car Ok Per tenere short Sa che ci sono dei tizi lunga Arriva la smoke da lunga Lui picca Uh bello il flick Cerca di prendere anche seconda E non ce la fa Ragazzi secondo me Questo non ha niente Secondo me questo proprio Pulito 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 Prova lit di AWP Non lo becca Lo smoccano Tiene short Come ogni buona AWP dovrebbe fare In caso viene smoccato in questa maniera Uno salta su Xbox Non lo vede E le decide di tornare per Ah Una scelta abbastanza saggia Comunque L'hanno colpito spesso Hanno fatto anche dei mid Dei mid rush Quindi Non lo so Però È una scelta che chiunque farebbe Suppongo io Fino a guardare short Non c'è nessuno Si preoccupa di long Chiede a un compagno di guardargli long Mentre lui guarda short Tutto a posto Intanto i terror Sono tutti Verso short Quindi Buon per lui Mira L'uscita di short Decide di spostarsi Arriva la nade Arriva il tizio Riesce a ittarlo Avvertito ovviamente D'alfa dagli short Ne prende uno Non prende quella quattro Stranamente Non riesce a centrare La testa di maple Che era accucciato Ed è per questo Che si gioca sempre In fondo ragazzi E mai troppo avanti Su short Perché se ne vengono Prende al volo Il tizio è lunga Bravo Bravo E' rimasto solo un terror Con la vp Che sta andando B Allegramente No è ancora in mid Adesso sta andando B Sta andando B Come l'allegro chi l'urgo Attenzione Entra in buco Va a plantare la bomba Quattro se ne accorgerà No Il nostro caro wagon Se ne accorge però Viene ucciso Situazione di retake E lui Lo prende Nelle porte Perché il tizio Ha piccato Perché è un coglione Facile Facile Perché l'hanno reportato Ma a me A me sembra molto pulito ragazzi Forse uno smurferino Forse uno smurferino Ma forse neanche quello Quindi Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi Se avete visto qualcosa di strano Che magari a me è sfuggito Perché sono stanco Il mio nome Come sempre Qui to know it Noi ci vediamo nella prossima Puttata di overwatch Ciao a tutti Gioco ai videogames Da quando avevo Due anni Adesso sono il re del let's play Wanna wait Noi ci vediamo la prossima Noi ci vediamo la prossima